benvengano le operazioni di polizia io io personalmente preferisco le operazioni non eclatanti ad orologeria ma quelle costanti nel tempo io da decenni che denuncio che c'è il racket del subaffitto e non mi meraviglio se viene accoltellata una persona proprio per questioni di subaffitto ne ho denunciate tante di situazioni situazioni dove addirittura un abusivo occupava altre sette case abusivamente le subaffittava ma sono anni che mi sgolo dicendo queste cose si è sfiorata la tragedia domenica scorsa a pescara quando per questioni legate a un subaffitto di una casa popolare un uomo è stato accoltellato finendo in ospedale sul tema relativo alla gestione delle case ater bisogna applicare lo strumento legislativo aggiornato un anno fa spiega il consigliere regionale domenico pettinari la legge regionale 96 96 che appunto regolamenta le case popolari la situazione è stata grazie ai miei contributi emendate e aggiornata un anno fa e prevede norme stringenti proprio per allontanare chi delinque dalle case popolari ad esempio la legge prevede che le persone condannate per reati importanti devono essere messe fuori sfrattate dalle case popolari prevede che non si possa adibire l'alloggio ad attività illecite prevede che non si può subaffittare l'alloggio prevede che le pertinenze dell'alloggio non devono essere utilizzate per delinguere tutta una serie infinite e mette in capo al sindaco la potestà appunto di procedere con provvedimenti decadenze quindi per cacciare queste persone cosa andrebbe fatto che non viene fatto e il censimento delle case popolari perché se si prende la legge e si va a censire tutte le case popolari a vedere chi sta all'interno dell'alloggio se ha ancora i requisiti della legge si possono ripulire tutti gli alloggi popolari perché tanti tantissimi non hanno più i requisiti per stare all'interno delle case popolari lo strumento c'è e che non viene attuato